Cacca, pupù, feci. Comunque la si chiama e sempre ovunque. Nasce per questo motivo all'interno del Bioparco di Roma la mostra Storia Naturale dell'innominabile. L'innominabile perché sembra una parolaccia, però l'innominabile è una sostanza organica utile. Questa mostra è dedicata ai bambini, ai bambini dell'elementare, alle scuole. I bambini impareranno da questa mostra che l'innominabile è cibo per gli altri animali, è fertilizzante per le piante, quindi ossigeno e quindi in poche parole è vita. Fino a quando sarà presente questa mostra? Per adesso fino a giugno. Noi vediamo come va. Se la mostra avrà un grande successo come mi auguro, la procureremo fino a settembre. Gli adulti se ne vergognano, ai cani piace annusarla e i neonati la fanno nei pannolini. L'argomento spesso imbarazza, sì, ma è vita. Gli escrementi infatti sono fonte di cibo, mezzo di comunicazione, combustibile e fertilizzante. Come mai è così importante questa mostra? È importante perché fino adesso questo elemento, chiamavamo così, non rifiuto, questo elemento è sempre stato un tabù. E vincere questi tabù, iniziando dall'età appunto dei bambini, è molto importante. Se non ci fosse la cacca degli animali, non ci sarebbe il suolo vegetale che permette l'esistenza sulla terra. Il percorso all'interno della mostra insegna proprio ai più piccoli come si formano e a cosa servono le feci. Attraverso dimensione, colore e solidità si può arrivare a comprendere a chi appartenga un escremento. Sono valori fondamentali, valori di etica, valori di civiltà che debbono essere promossi e quindi qualsiasi iniziativa, qualsiasi progetto che sia scientifico o culturale va benissimo. Una mostra divertente a misura di bambino che può insegnare qualcosa e perché no appassionare anche gli adulti.